buongiorno a tutti quanti scusate il video un pochino scalcagnato ma non avevo tempo di girarne uno un pochino più intranquilliti in ogni caso speriamo che non passi nessuno tra l'altro perché c'è tipo mi sento ultra osservata anche se non c'è nessuno però ok in ogni caso volevo augurarvi un sereno 2019 speriamo che riesca a portarvi finalmente quello che il 2018 non ha fatto in tempo a regalarvi Nicola al naso e niente volevo anche ringraziarvi di averci seguiti così numerosi sul canale durante tutto il 2018 e speriamo che continuate continui continuiate anche a seguirci con piacere nel 2019 detto questo Amelia vi saluta e ci rivediamo all'anno prossimo bye bye buongiorno a tutti ragazzi innanzitutto buon anno a tutti quanti scusate se sono un po in queste condizioni faccio il video così ma sono tipo le due di pomeriggio mi sono appena svegliata volevamo solo augurarvi buon anno e grazie per averci seguito in questo 2018 così numerosi e speriamo che abbiate voglia di continuare a seguirci prossimo anno nel 2019 un bacione a tutti ciao ciao ciao